Siamo arrivati, ma c'è un giorno qui mi sono messo qua di là. Tu ti aggiungo anche perché c'è davanti con la Caterina. Poi le lasciano a niente voi guarda che abbiamo il papà e la mamma che è molto bene con la mia chiamata. L'amica è ora. Grazie. 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 Lasciala. Scusa, ho detto... Ragazza. Nopi siamo uniti. a pescicoli e con l'ingegno a pescicoli e con l'ingegno a pescicoli e con l'ingegno All'allenaggio, all'allenaggio, giocca dietro! Dopo il viaretto. Non c'è l'interno, non c'è l'interno. Hai fatto l'interno del Vigiliano? Chi è fatto l'interno del Vigiliano? Non c'è l'interno del Vigiliano? Sì, sì, sì. Grazie.